Olivia D'Alfa in secondo. Parte arretrato Olmo Laser, galoppa Ortefonte. E il numero uno Oriana Blu assume decisamente l'iniziativa davanti ad Oceani OM e D'Omerta del Nord. Il galoppo di Oceani OM si rimette nelle posizioni di coda. Nel frattempo Oriana Blu percorre i duecenti iniziali in 14.7. Oriana Blu, Omerta del Nord, in terza posizione Oxford Stritt, a precedere Olivia D'Alfa, poi Olmo Laser, Oceania, chiude Ortefonte. 29.8 il quarto iniziale, lunga fila indiana, tiene ottima andatura la leader Oriana Blu. Percorre i seicento in 44.6. Passaggio davanti alle tribune. Giro di pista completato in 59.5, addirittura montante di 90.000 euro su una corsa a 7 cavalli. È Natale e si vede. Si cerca la fortuna. Chilometro in 1.14.9, Oxford Stritt marca Olivia D'Alfa, poi sposta e va su Omerta del Nord. Nel frattempo Oriana Blu cerca la fuga giusta. Tre quarti di miglia in 1.22.2, Oxford Stritt, sempre il più incisivo. Attacca a fondo Oriana Blu, si avvicina Olivia D'Alfa. Non progredisce o Mertà del Nord. Retta d'arrivo. Sta passando Oxford Stritt, a centropisto interviene Olivia D'Alfa. Olivia D'Alfa va su Oxford Stritt. Olivia D'Alfa nei pressi del palo. Prevale su Oxford Stritt e Doriana Blu. Media probabile di 1.13.9 addirittura per Olivia D'Alfa e Antonio Di Largo. I colori della Stunt Royal Horse. Un training di Vincenzo Dufano. 5,77 euro la quota. Tenuta a metà gruppo fino ai 400 finali.